Red Hook Crete è una corsa ciclistica di criterium per uomini e donne di tutto il mondo che si svolge annualmente a Brooklyn dal 2008 e in altre città europee. Milano dal 2010, Barcellona dal 2013 e Londra dal 2015. La particolarità di tutto ciò? La particolarità che il tutto si svolge di notte all'interno di un circuito breve dove ai corridori è permesso solo l'uso di biciclette a ruota fissa senza freni. Infatti proprio per questo si verificano spesso incidenti. È proprio sulla nostra città italiana Milano che però ci vogliamo soffermare. Rockstar Games oltre a portare riferimenti all'Italia nei suoi capolavori videoludici ha portato e continuerà a portare il suo luogo stellare anche in Italia. La nostra casa produttrice di videogiochi preferita infatti ha iniziato a sponsorizzare il circuito Red Hook Crete dal 2013 e sino ad allora ci fa emozionare anche in questa pista. Striscioni, vestiari o gadgets come le famose campane e premi della corsa targati Rockstar nelle strade della capitale italiana della moda. Non c'è da sorprendersi infatti se molti fan Rockstar, soprattutto collezionisti, posseggono alcuni di questi fantastici ricordi. Visitate i social network di Red Hook Crete, il loro sito internet e il loro canale YouTube per gustarvi maggiormente questi momenti unici. Un evento che sicuramente in futuro, dopo la sua mancanza dal 2018 e soprattutto appena ritornerà tutto come prima, non ci faremo scappare. Anche perché, ehi, è gratis!